La presenza di sorgenti d'acqua e di vie principali di comunicazione sono la conferma della presenza stabile di una casa templare a Spinazzola, giacché a riprova intervengono alcuni documenti che si riferiscono ai beni posseduti dall'ordine del tempo. I templari in Spinazzola non ebbero soltanto una semplice casa, ma ebbero una vera e propria precettoria. Questa precettoria, come altre in Europa, disponeva di un luogo di culto annesso alla Domus, che essendo inserito nell'ambito di un più ampio complesso edilizio, assumeva il nome di precettoria o commenta, come erano chiamate in Francia, ed erano il centro propulsore della vita religiosa da cui partiva ogni iniziativa. Per l'ordine, avere delle precettorie o delle commente sulle grandi vie di comunicazione che si collegavano con una terra santa era una necessità di primaria importanza, perché questa sistemazione permetteva loro di assistere i pellegrini diretti o di ritorno da Gerusalemme. La necessità di fissare una residenza in luoghi dove l'acqua abbondava era per ritentrare conseguenze imposte dal loro sistema di vita. L'esperienza militare che quei cavalieri avevano acquisito nelle tante battaglie, li portava a investarsi sul territorio con una serie di attività, spesso anche di tipo imprenditoriale, tanto da suscitare l'interesse dei potenti ed essere ben accolti dal popolo. Lungo il confine Apul-Lucano, la presenza dei Templari era molto forte. Infatti a Spinazzola, da Ugo De Pagani, tra il 1157 e il 1182, fu costruito il primo ospedale dell'ordine per l'accoglienza e la cura dei pellegrini e dei cavalieri crociati, provenienti o diretti in terra santa. Da Via La Torre, attraverso l'antico accesso del capitolo, si giunge in Via Vignola, all'interno delle mura feudali e all'ospedale templare di Spinazzola, costruito appunto da Ugo De Pagani e fu il primo ospedale dell'ordine in Puglia. Una scritta in latino sul suo architrave riporta tale destinazione. Qui abitò pure Francesco Maria Vignola, vescovo. Si tratta della più antica testimonianza sulla presenza dei Templari in Puglia e anche in tutto il Regno di Sicilia e a risale al 1137. Così dice lo studioso Gian Battista Pregnano, a Carlo che nel 1137 era conte di Lecce, donò alla chiesa dei cavalieri templari insieme alla moglie fenicia un ospedale, da lui edificato nel borgo di Detto Castello, nella sua terra di Spinazzola, in Basilicata. La Basilicata e Spinazzola rappresenta quindi una fase importante dei Templari per un motivo molto semplice. A quei tempi parliamo degli anni che vanno dalla prima crociata, 1099, alla Costituzione dell'Ordine, 1118, fino al 1128. Questa era una zona importantissima di transito per i pellegrini in viaggio verso la Palestina e non era certamente la Francia, né tantomeno la Champagne, Roberto il Biscardo, la cui tomba si trova a Venosa, Beomondo, suo figlio, la cui tomba si trova a Canosa, Federico II. Il grosso del movimento, che da nord portava eserciti e pellegrini e religiosi in Terra Santa, attraversava il Lazio, la Campania e infine la Basilicata per imbarcarsi a Brindisi. Per questo la Basilicata e Spinazzola in quel momento era un croceria di massimo riligno, ed è ovvio che a un certo punto è diventato punto logistico di partenza o di smistamento della forza Templare. Grazie a tutti!